Sapete cosa fa spesso il successo di un'azienda? Sono Vincenzo Dottorini e sono l'amministratore unico di Ineltech SRL, un'azienda nata nel 2002 che si occupa di installazione e manutenzione di impianti elettrici e sistemi tecnologici per le aziende. Prima di essere un imprenditore e l'amministratore di questa società ho fatto un po' di prove tecniche, seguendo la mia passione per gli impianti. Dopo la campanella, l'uscita da scuola infatti, svolgevo dei lavoretti amatoriali che pian piano si sono trasformati in una professione. Una professione che ha avuto la fortuna di coltivare e far crescere sino a creare un'azienda, un'azienda fatta di persone. Persone che ogni giorno mettono in campo la propria competenza per rispondere alle esigenze del cliente. Sì perché un'azienda che vuole andare avanti e crescere deve distinguersi sul mercato e di conseguenza deve poter contare sulle competenze del proprio team, condividere i valori e metterli in pratica, a volte anche con ostinazione, accettando tanto i successi quanto i fallimenti. Infatti la capacità di considerare un insuccesso, rendiamola più morbida rispetto al fallimento, una vera occasione di crescita dà la possibilità alle aziende di riflettere e di rinnovarsi. In Italia, nonostante siano stati fatti tanti passi avanti rispetto a questa cultura del fallimento, di fatto la viviamo ancora come un grosso problema. È motivo quasi di vergogna e demotivazione, soprattutto per le vecchie generazioni. Ma non è così nel resto del mondo. Jeff Bezos, infatti, fondatore e CEO di Amazon, nel 2016 con una lettera ai propri azionisti ha fatto un vero e proprio elogio al fallimento. Perché il fallimento, visto come occasione per guardarsi dentro e migliorare, è l'unica cosa che spinge le aziende a fare meglio e a fare di più. Una vera sperimentazione. Si sperimenta solo quando di fatto si è costretti, quando si è messi all'angolo. Non esiste una ricetta magica e universale per avere successo nel mondo imprenditoriale, ma ci sono di sicuro approcci e valori che, condivisi con le giuste persone, diventano parte integrante della cultura aziendale e poi ne fanno la differenza. Ineltech negli anni si è fatta strada ed è diventata un punto di riferimento nel sud Italia per l'installazione e manutenzione di impianti elettrici e elettrici speciali e tutte le tecnologie che possono servire ad un'azienda. È sempre stata aperta al cambiamento, questo grazie anche agli stimoli che provengono dalle nuove generazioni, che sono entrate a far parte della nostra squadra tecnica e su cui abbiamo investito e continueremo a investire per la loro formazione. Sono ragazzi che possono portare un bagaglio di conoscenze aggiornate e ma soprattutto parlano il digitale. Oggi infatti nel settore dell'impiantistica per svolgere correttamente un lavoro si è passati dall'utilizzo di pinza, forbici e cacciavite alla programmazione di sistemi elettronici e digitali. Ineltech considera fondamentale la conoscenza perché permette di sviluppare quelle competenze specialistiche di cui il cliente ha bisogno e che fanno sì che scelga te rispetto ad un'altra azienda. La nostra realtà ha sempre dato grande importanza alla formazione continua del team. Per noi ogni occasione è buona per imparare e crescere e non ha mai perso di vista i propri valori. Innovazione per stare sempre a passo con le nuove tecnologie. Sostenibilità per generare benessere rispetto alle condizioni economiche ed ambientali. Armonia per creare momenti di dialogo e condivisione con le persone. Sapete cosa permettono di garantire conoscenza, la formazione continua e questi valori? Tempestività nelle risposte, affidabilità nel lavoro eseguito ma soprattutto orientamento al risultato. Faccio un grande in bocca al lupo per il vostro futuro.